Cosa pensa di fare per ridurre le liste d'attesa? Molto abbiamo già fatto, anzi la pregherei anche con la sua trasmissione sulla sanità di misurarle un po', poi è evidente che non dovendo più tappare buchi, quanti erano questi buchi, basta mettere ogni anno un po' di risorse in più e questo problema via via si risolve, ma mi piacerebbe che lei le misurasse anche un po' nelle varie realtà e nei vari settori, perché in molti casi siamo già vicini all'obiettivo, anzi in molti casi l'abbiamo raggiunto. Questo è uno dei problemi più urgenti che avrà la regione, io credo che sia non accettabile far aspettare mesi e mesi una persona che ha paura della propria vita e quindi faremo quello che abbiamo già fatto quando governavo la regione, cioè daremo dei bonus, degli incentivi al personale medico e infermieristico perché possono lavorare al pomeriggio per utilizzare a pieno i macchinari e se non ce la faremo noi ci impegniamo a rimborsare il prezzo che il pubblico potrà fare in un istituto privato, quindi dovremo dare delle garanzie assolute perché il paziente sia assolutamente servito nei tempi giusti. Il terzo valico si farà, lei è d'accordo, in attesa che alternative per evitare il caos nel nodo di Genova? Sono d'accordissimo, ho lavorato tanto nei cinque anni di mio governo insieme al governo Berlusconi, ricordo solo che il governo Prodi l'ha cancellato e che adesso è stato anche finanziato per 500 milioni di euro, quindi questo è molto positivo. Il terzo valico ci vorrà 12 anni e quindi in questi 12 anni io credo che l'unica cosa da fare sia far sì che le ferrovie, soprattutto nel campo merceologico, possano lavorare meglio, non stanno lavorando bene, questo bisogna dirlo perché i treni che si possono fare non si fanno, si dà troppa priorità ai trasporti camionistici e quindi questo non va bene. Io credo che su questo noi dobbiamo lavorare, dobbiamo aspettare 12 anni per farlo e il terzo valico ci servirà per i prossimi 50 anni. Costruiamo la strada a mare a Cornigliano, il nodo ferroviario di Genova e poi l'Orella Bissa Savona, l'Orella Bissa Spezia, Sanremo, Attaggia, la ferrovia del Ponente, pezzi di Pontremolese, sono tante cose che naturalmente aiutano in attesa di un'opera così importante come il terzo valico. I treni pendolari fanno veramente schifo, cosa farà per renderli decenti? Che cosa abbiamo già fatto? Abbiamo deciso un investimento di 50 milioni di euro come regione e altrettanti li mette in Italia perché i treni fanno veramente schifo, mi sembra un linguaggio diretto. E poi investiamo anche 5 milioni all'anno nel servizio, per ora diamo anche tante multe, si viaggerà gratis per un paio di mesi quest'anno a causa delle multe, ma il nostro obiettivo è non avere più sanzioni e avere buoni servizi. Noi ci mettiamo molti soldi, ora tocca alle ferrovie. Però quello che fanno le altre regioni, un contratto con le ferrovie, ricordiamoci che i treni regionali sono pagati dalla regione e il servizio viene offerto dalle ferrovie dello Stato, da Trenitalia in particolare, e questo contratto secondo il nostro parere e anche quello di tante associazioni dei pendolari non funziona. La regione protesta spesso e volentieri, ma non incide. Le altre regioni incidono come se incidono, hanno treni nuovi, noi ne abbiamo presi 10 e ne avremmo dovuti prendere 50, quindi io farò una grande lobby soprattutto a Roma, dove anche come Presidente della Commissione dei Trasporti ho la conoscenza e la competenza per poter avere queste trattative, per darci quello che ci spetta. Oggi noi siamo sottostimati e sottoutilizzati dalle ferrovie, dobbiamo cambiare. Se vincerà le elezioni, quale è la parola d'ordine del suo governo? Mi verrebbe da dire così valigette pedalare o rimbocchiamoci le maniche, però lavoro ce ne sarà tanto da fare. Io anche dal mio osservatorio a Roma da parlamentare vedo che la regione Liguria è troppe volte assente, io vedo le altre regioni che vanno più avanti e questo a me dispiace come Ligure, quindi io credo che insieme alla mia squadra dobbiamo fare un grande lavoro in sinergia col governo e anche in sinergia col comune e la provincia perché è una regione che si è fermata e noi non ce lo possiamo permettere, non è uguale, quindi se vince una coalizione o vince un'altra coalizione. Abbiamo perso cinque anni in discussioni, in dibattiti pubblici, io credo che sia il momento, come dicevo, di valigette pedalare. È una parola che mi piace molto pensando i Liguri è dignità e non c'è dignità se non c'è lavoro, questo è il problema più grande che c'è oggi dopo questa crisi, durante questa crisi. Da quelle lettere che ricevo vedo l'angoscia di tanti che lo hanno perso, che non lo trovano e penso che ridare dignità alla gente Ligure col lavoro sia l'obiettivo più grande dei prossimi anni. Eravamo già arrivati abbastanza vicino all'obiettivo dopo tanti anni di buona crescita e oggi questa crisi che nasce da lontano colpisce tanto anche la nostra famiglia. Tre cose che vorrebbe realizzare nei primi mesi di governo? Viene vorrei dire una per provincia, finire presto la grande operazione della pista ciclabile del ponente Ligure, un modo per creare sviluppo, turismo senza compromettere l'ambiente di quel ponente che ha già avuto molti colpi. Fare un'operazione simile a Noli, spostando l'Oreglia in galleria e recuperando Caponoli che è bellissima. Nel Genovese visto che Conigliano la viabilità nuova parte adesso e quindi è già un frutto di questo mandato, vorrei cominciare i lavori in Fontana Buona, una valata molto bella ma troppo isolata che ha bisogno di essere collegata alla costa. Infine Spezia merita un ospedale importante, vogliamo cominciare il lavoro al Felettino e dare anche a quella città una risposta sanitaria di alto livello. Mi verrebbe in mente la quarta, festeggiare per una settimana, però io credo che non avremo tempo. Gioiremo ma dovremo lavorare, lavorare, lavorare. Le prime tre cose sono tante, insomma direi che riassumerei in questo. Una grande lavoro per portare lavoro in Liguria. Abbiamo perso troppe occasioni e quindi su questo ci dovremo impegnare. Troppi giovani chiedono di poter rimanere in Liguria e quindi su questo c'è il mio totale impegno. Nel mio piccolo ho portato lavoro e quindi io credo che su questo ci impegneremo. Le altre due sono gli esami diagnostici di cui abbiamo già parlato e il terzo credo che sia soprattutto togliere la politica dalla sanità. In che cosa si sente cambiato in questi cinque anni? Non mi sento cambiato. Io credo di essere sempre la stessa persona con un entusiasmo in più. Io faccio un passo indietro, torno da Roma dove non torna quasi nessuno, ho una casta privilegiata, però torno indietro per farmi un bel mazzo perché vedo che la regione Liguria si è fermata. Quindi sono cambiato, sono più maturato, conosco più le persone, ho entusiasmo come avevo dieci anni fa, però ho una competenza che credo che possa servire a questa Liguria. Io credo di poter portare un piccolo valore aggiunto. Mi impegno su questo e su questo non ho altre finalità che cercare di lasciare un buon ricordo e un utile per la mia regione. Forse sono più capace di dimostrare i miei sentimenti alla gente che incontro. Magari ero più timido, più chiuso. Ora questa cosa forse mi riesce meglio. Sono più capace a mostrarmi come effettivamente sono. Devo dire che mi piace questo, che sono contento di questo, che è bello mostrarsi agli altri come si è effettivamente. Gli altri ne sono contenti e ti ricambiano con altrettanta disponibilità, gentilezza, atteggiamento diretto. È un rapporto più intenso con la gente con cui si è contatto. È molto bello.